Tonight Awards, gli Oscar della notte di Tonight. Quali sono le caratteristiche quindi del vostro locale? Birre artigianali di qualità, oltre 300 selezioni di birre a crescere, a crescere, a crescere. Al momento abbiamo 422 birre direttamente a scaffale. Le selezioniamo personalmente andando alla ricerca delle migliori birre mondiali con occhio di riguardo per le birre innovative, per le birre storiche ma soprattutto per le birre artigianali che riescono a fare una valorizzazione del territorio. Questa è la parte birre, la parte friend? La parte friend viene da tutti gli amici che ci hanno votato, che ci hanno portato qui al Tonight Awards. Noi stiamo felicissimi e ringraziamo veramente tutti per il voto espresso. Grazie a tutti ragazzi per il sostegno che ci avete dato. Grazie, non saremo qua senza di voi.